Nikon e Nital sono liete di presentare una nuova fotocamera che con le sue caratteristiche si giudica un posto di assoluto pregio tra le Coolpix della serie Style. Parliamo appunto della Coolpix S9100, l'unione perfetta tra compattezza, design e prestazioni avanzate. L'obiettivo è senza dubbio l'elemento più sbalorditivo della Coolpix S9100. La macchina incorpora infatti in un corpo estremamente compatto e tascabile un super zoom Nikkor 18x con un'escursione equivalente che parte da 25 mm in grand'angolo fino al super tele da 450 mm. L'obiettivo con una portata degna di una fotocamera Bridge garantirà insieme al sensore CMOS retroilluminato da 12 megapixel di scattare immagini sempre perfette in qualsiasi situazione. La struttura retroilluminazione appunto del sensore CMOS lo rende molto più sensibile alla luce che sarà quindi acquisita in quantità decisamente maggiore e trasformata in informazioni molto più dettagliate in grado di restituire le immagini dalle splendide tonalità oltre che estremamente nitide. Grazie dunque alla sua elevatissima sensibilità alla luce con la Coolpix S9100 non dovrete mai più rinunciare a scattare una bella fotografia. Se infatti dopo una serata tra amici passeggiando magari nel centro storico della vostra città illuminato dalle sole luci della notte vi venisse voglia di scattare una bella immagine che richiederebbe in alcune situazioni anche l'utilizzo del treppiedi o magari qualche accorgimento tecnico in più vi basterà tirare fuori dalla tasca o dalla borsa la vostra Coolpix S9100 inquadrare e scattare e catturare in un'immagine la stessa emozione che ha catturato la vostra attenzione. Anche il flash diventerà un vero optional che sentirete raramente l'esigenza di utilizzare per mantenere nelle vostre immagini l'atmosfera reale così come la percepite con i vostri occhi. La stabilizzazione dell'immagine tramite il decentramento del sensore associata all'occorrenza a quella elettronica fornirà un grosso aiuto soprattutto quando utilizzeremo lo zoom alla sua massima estensione per avvicinare magari i soggetti molto lontani. Inoltre con la nuova modalità di ripresa ritratto notturno avanzato potremmo effettuare con una sola pressione del pulsante di scatto una serie di fotografie dello sfondo più un'ultima con il flash per illuminare correttamente il soggetto in primo piano. Le immagini verranno poi sovrapposte automaticamente a un camera per creare un'unica fotografia dove sarà esposto correttamente sia lo sfondo che il primo piano. Il tutto ovviamente sempre utilizzando la macchina a mano libera e contenendo la sensibilità che comunque è impostabile all'occorrenza fino al valore di 3200i. Potrete apprezzare la bellezza delle vostre immagini già attraverso l'ampio monitor da 3 pollici a 921.000 punti con tecnologia Clear Color che riduce le riflessioni interne per una migliore visibilità. Qualora invece il grandangolo da 25 mm non sia sufficiente a racchiudere e a contenere in un'unica inquadratura la bellezza del paesaggio che vi trovate di fronte potrete ricorrere alla funzione Easy Panorama grazie alla quale potrete realizzare una foto panoramica a 180 o 360 gradi in orizzontale o verticale unendo insieme una serie di scatti che la fotocamera effettuerà automaticamente premendo una sola volta il pulsante di scatto. La funzione video completa le opportunità offerte dalla Coolpix S9100 di consentire massima libertà d'espressione registrando appunto filmati in full hd alla cadenza di 30 frame al secondo. Durante la ripresa video è utilizzabile l'intera escursione dello zoom ed è possibile scattare immagini semplicemente premendo il pulsante di scatto in qualsiasi momento. Grazie alla tecnologia HDMI check possiamo collegare la fotocamera direttamente al nostro tv ad alta definizione e utilizzare il telecomando del televisore stesso per avviare i filmati che abbiamo realizzato o semplicemente scorrere le immagini. In fase di ripresa è inoltre possibile applicare sia le immagini che i video una serie di effetti creativi come per esempio l'effetto flu, il viraggio seppia o l'effetto selezione colore che permette di ottenere una foto in bianco e nero mantenendo invece inalterato un determinato colore presente nella scena precedentemente selezionato. L'effetto può essere subito visibile sul monitor prima di effettuare lo scatto o di iniziare la ripresa video. Il cursore creativo consente sempre in fase di ripresa di modificare la tonalità di colore, la luminosità o la saturazione. Inoltre sono possibili anche altri effetti che possono essere applicati alle immagini successivamente allo scatto. L'eleganza della Coolpix S9100 si nota anche nei particolari. L'obiettivo e la ghiera anteriore sono in tinta con il body della fotocamera che è disponibile in tre colorazioni diverse per una sintonia completa con lo stile di ognuno. Una compagna di viaggio eccezionale per la versatilità del suo zoom che vi consentirà di ottenere sempre la migliore inquadratura per immortalare in maniera fedele o liberando al massimo la creatività ogni momento della vostra vita. Nikon e Nital sono liete di presentare una nuova fotocamera che con le sue caratteristiche si aggiudica a un posto di assoluto pregio tra le Coolpix della serie Style. Parliamo appunto della Coolpix S9100. Grazie a tutti! Grazie.